Allora ve li faccio vedere perché sono utilissimi, io li uso molto spesso. Sono Numbeo e Nomadlist. Su Numbeo puoi vedere un sacco di cose, dati e informazioni che puoi andare a ricercare lì dentro, dal costo della vita per diverse città, ai prezzi delle case, alla qualità di vita, con ogni indicatore che ti spiega cosa stai vedendo. Quello che uso di più io è il Cost of Living Comparison che è un, diciamo, cerca di essere una comparazione del costo della vita. Possiamo fare Padova, città dove sono in questo momento e Dubai, città dove vivo e dove tornerò settimana prossima. Si va a fare comparazione, ovviamente se vuoi puoi fare anche il login, ma ce ne importa poco. E poi ti dice il costo medio di tutte le cose, cioè nutrirsi e ristoranti poco costosi quanto costa nella valuta locale di Padova in euro, nella valuta che selezioniamo noi, in realtà currency che selezioniamo noi, e nell'altra valuta, in questo caso diram. Tra l'altro, meal inexpensive è interessante vedere come a Dubai i pranzi cheap, i pranzi poco costosi, i pasti poco costosi, costino meno della media di Padova. Ed è vero perché se andiamo a prendere i ristoranti veramente poco costosi, quelli dove magari vanno i labors, a Dubai si spende veramente poco. Perciò è interessante vedere come volendo, da questo punto di vista, Dubai sia più economico. Poi ci sono un sacco di altre informazioni divise per utilities, sport, clothing, affitto. L'affitto, come possiamo vedere, se si prende Padova contro Dubai, la media ovviamente, questi sono tutte medie e se andate ad approfondire il sito di Numbeo vi spiega anche come vengono calcolati i vari dati. Dal mio punto di vista è il sito più imparziale in questo momento, che vi dà le informazioni più, tra virgolette, accurate. L'unica informazione in più che dovete avere come riferimento è il fatto che questo sito prenda la media. E in città come Dubai, dove il minimo e il massimo che una persona può spendere sono veramente differenti, è un'informazione che magari non è proprio utile. Perché a Dubai, vero, un one bedroom mediamente costa 1800 euro al mese, però ci sono one bedroom che riesci ad avere anche per 8-900 euro al mese. Perciò il discorso 1800 è un'informazione media. A Padova invece dubito che con meno di 400-500 euro tu riesca ad avere un appartamento da one bedroom nel centro della città. Anzi, se riesci a trovare 500 euro, essendo anche una città universitaria, trovi veramente bene. Però la media va a 715, perché le offerte alte ci sono, per carità, ma non sono come Dubai, dove magari un one bedroom al centro della città ti può costare anche 100-150 mila euro al mese come affitto. Qui a Padova non c'è questo divario così grande. Poi per carità ci sono begli appartamenti, però non trovi one bedroom da 5-6-7 mila euro d'affitto al mese. Cioè ti devi sforzare. A Dubai invece li trovi tranquillamente. Però allo stesso tempo hai un livello molto più basso. Quindi c'è anche questa considerazione da fare. Però come media è abbastanza imparziale e quindi può essere un ottimo sito su cui basarsi. L'altro sito che uso spesso è Nomadlist e qui avete un punto di vista del nomade digitale. Perciò di una persona che magari sta in un posto un mese all'anno e poi si muove. È figo perché qui oltre al discorso di dati, informazioni relativamente imparziali, se devo essere sincero sono più imparziali su Numbeo, qui avete anche la possibilità di connettervi con una sorta di community creata proprio da Nomadlist.